Io spero che ci si qualifichi ai mondiali. Detto questo riprendo le parole dell'allenatore della Ternana. Con un po' meno stranieri in campo nelle giovanili, nei campionati di A, B e C, probabilmente ci sarebbe una nazionale più competitiva. Io rimpiango l'epoca dei tre stranieri in campo perché mi sembra che sia un diritto far crescere i nostri ragazzi giocando con un pallone senza andare a recuperare campioni o mezze pippe dal resto del mondo. Quindi lei non farebbe giocare Giorginio e Deppi? Non faccio l'allenatore della Nazionale di Calcio, per fortuna ambisco a qualcosa di diverso. Se la normativa è questa, per il momento è questa. Per quello che mi riguarda, nella Nazionale italiana dovrebbero giocare il più competitivo.